Musica Che dire della visita in Sardegna e nel Montiferro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che a Cagliari ha incontrato il Presidente della Regione Cristian Solinas, quello del Consiglio Michele Paes, la Commissione Attività Produttive, l'Assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia, consiglieri regionali, sindaci, organizzazioni di categoria. Siamo venuti per ascoltare, è stato detto, e quindi il rosario delle ipotesi e possibili soluzioni per il domani e per l'oggi la pressante richiesta dei ristori, semplici e rapidi nella erogazione, questo prima di tutto. Ed inoltre la definizione di un quadro che ai diversi livelli stabilisca misure antincendio e di prevenzione certa e adeguata e ancora celerità ed efficacia come cardine. La Commissione ripartita dopo aver visitato quel che resta di alcune aziende percorse dal fuoco, impegnandosi, lo si vedrà, di trovare forme di intervento anche a livello nazionale e di governo. Ma la preoccupazione sale, per via di una macchina organizzativa che deve operare su più fronti ed è rallentata da con cause diverse che vanno rimosse con rapidità e decisione. Diversamente, esiste il pericolo che l'anno si chiuda senza che sia stato possibile intervenire con provvedimenti tangibili e concreti. Le immagini scattate parlano, mostrano realtà occultate per mesi, anni. È stato trovato di tutto, da scaldavagna, vecchie ruote, pezzi di ferro. Due giornate, 5 e 12 settembre, organizzate da semplici cittadini. Appuntamento dunque sia a Cugliari che a Sant'Ulusurgio, i paesi maggiormente colpiti dai passati rughi. Fuochi che hanno reso visibili discariche immense, recenti, abusive e inquinanti. Impegnati grandi e piccoli, provenienti anche da altri comuni della provincia d'Uristano. Tanta soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell'iniziativa. Abbiamo visto tanta collaborazione, abbiamo trovato di tutto. Ciò ha creato tanta rabbia, delusione, dolore. Tutti muniti di guanti, carriole, bidoni per raccogliere quanto l'uomo incivile ha abbandonato senza preoccuparsi delle conseguenze, gradito anche l'impegno dei bambini. Vi è ancora tanto da fare, perché tanti sono i rifiuti da raccogliere. Speriamo, in altre giornate come quelle vissute, l'ambiente ha bisogno di noi. E con vero piacere che saluto insieme a voi ragazzi l'inizio del nuovo anno, che dopo la lunga assenza dai banchi si apre all'insegna di un rinnovato ottimismo e con l'entusiasmo e la gioia del tanto sospirato ritorno in classe, con un augurio ai principali protagonisti, il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo interviene oggi, 13 settembre, sull'apertura dell'anno scolastico 2021-2022. Questo è certamente un momento speciale nel quale finalmente vi ritroverete in aula con i compagni e gli insegnanti e sono sicuro che l'emozione di incrociare gli sguardi sarà più forte del pensiero dell'impegno e della fatica che vi attende e che accompagna ogni nuovo anno che inizia. Il mio più caro augurio è quello di vivere a pieno, con passione ed emozione, questa nuova normalità, faticosamente ritrovata, riprendendo con fiducia e costanza il cammino verso la costruzione del futuro intrapreso da ciascuno di voi nel lungo viaggio verso l'età adulta e di cui la scuola costituisce una parte fondamentale, continua Stelo. Al giusto entusiasmo vi chiedo tuttavia di unire il senso di responsabilità e la consapevolezza che il Covid-19 non è ancora sconfitto e che dependerà solo dal nostro senso di responsabilità, osservando con scrupolo le regole di comportamento che abbiamo imparato in questi anni, far sì che nel più breve tempo possibile di esso resti solo un ricordo sbiadito, ha concluso Stelo. Dopo oltre mezzo secolo, le porte del Foro Boario si sono riaperte. Tutti i giorni, dalle 17 alle 20, sarà a disposizione degli oristanesi e dei turisti per raccontare la sua lunga storia strettamente legata a quella della fiera Mercato del Bestiame, alla festa di Santa Croce, alla più forte tradizione popolare e rurale della comunità oristanese. A tagliare il nastro e a varcare per primo la soia dell'edificio è stato il sindaco Andrea Luzzo, che durante la cerimonia di inaugurazione è stato accompagnato dagli assessori alla cultura e ai lavori pubblici Massimiliano Sanne, Francesco Pina e il prefetto Fabrizio Stelo. All'archivista Alaria Urgu, il compito di raccontare la storia del Foro Boario, mentre Bianca Laura Petretto si è soffermata sulle tante qualità del nuovo spazio espositivo, fornendo qualche gustosa anticipazione della mostra che tra un mese sarà ospitata al Foro Boario. Riaperto al termine di una lunga serie di lavori di ristrutturazione, il nuovo Foro Boario sarà una struttura espositiva dedicata a disposizioni d'arte in genere, con particolare riguardo per l'arte contemporanea. Così, dopo l'apertura in occasione della festa di Santa Croce, su iniziativa dell'assessorato alla cultura e il supporto della Fondazione Uristano, con installazioni multimediali e testimonianze dell'archivio storico comunale, tra un mese il vero evento di lancio dell'antica struttura, con una mostra d'arte contemporanea di livello internazionale, curata e con la direzione artistica di Bianca Laura Petretto, che fonderà la tradizione uristanese con i moderni linguaggi d'arte. La visita del Papa in alcuni paesi dell'Est ha sorpreso parte della politica e dell'informazione italiana ben pensante. Nel primo caso il timore che la trasferta del Pontefice contribuisse a legittimare alcune posizioni come il sovranismo, che in quest'altra parte dell'Europa sono viste come fumo negli occhi. Nell'altro il tentativo, non troppo nascosto, di far esprimere al Papa e al suo entourage posizioni da utilizzare nel nostro paese nello scontro politico in atto. Niente di tutto questo, nonostante le tentate forzature da parte di qualche cronista interessato. La posizione degli addetti all'informazione del Vaticano è stata ferma e lapidaria. Si tratta, è stato detto, di un viaggio dove è bene evitare di mischiare letture di altro genere a quella spirituale. Ascolto da oltre 100.000 persone per il Papa che ha aperto a Budapest la sua visita in Ungheria ed ha proseguito ieri in Slovacchia, concludendo la Bratislava e all'UNIX dove ha incontrato la comunità Rom. Le biblioteche di Oristano e Santa Giusta pronte ad ospitare una serie di laboratori su percorsi di alfabetizzazione informatica. L'iniziativa rientra tra le attività previste dal progetto Biblioteca una risorsa per la comunità, finanziato dalla Fondazione Conil Sud in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, la cooperativa Studio e Progetto 2 come capofila, il Comune di Oristano, il Comune di Santa Giusta e la Fondazione Oristano come partner. I laboratori sono riservati a tutti i cittadini senza limiti di età residenti nei Comuni di Oristano e Santa Giusta. Per prevenire il contagio da Covid-19, i partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro a seconda della disponibilità di PC, spazi e orari che saranno definiti dopo la compilazione dei moduli. Il corso fornirà una panoramica sui programmi maggiormente diffusi, sulle modalità di creazione, uso di account e di posta elettronica, documenti, ricerche sul web, conversione di test in PDF, attivazioni, uso dello speed e navigazione sui principali siti istituzionali e accesso alle risorse come il portale IMS o il sito del proprio Comune. Ogni laboratorio avrà una durata di 10 ore, si terrà nelle sedi delle biblioteche di Santa Giusta e Oristano, comprese Torre Grande, Donigala, Nuragini-Edu e Sili. In questi luoghi sarà possibile richiedere e consegnare i moduli per l'iscrizione. Si è svolta ieri 12 settembre all'isola di Maldiventre, la giornata ecologica denominata Puliamo l'Isola 2021. A organizzare il programma, approvato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andre Abis, e le operazioni sul campo, è stata l'area marina protetta, con la collaborazione del Ministro dell'Ambiente, che ha messo a disposizione la motonave Ioda, anti-inquinamento della Capitania di Porto d'Oristano, Cresso, cooperativa Nelsinis e consulta Giovanni Cabras. Circa 230 kg di rifiuti sono stati raccolti durante la giornata di lavoro, tra plastica, vetro e indifferenziato, per lo più trasportati dal mare. A questi si aggiungono i rifiuti di grandi dimensioni. Sono davvero soddisfatto per il risultato conseguito, ha affermato il direttore dell'area marina protetta Massimo Marras. Grazie all'unità navale anti-inquinamento inviata dal Ministro dell'Ambiente, abbiamo trasferito i rifiuti raccolti, che saranno regolarmente trasferiti in discarica, per lo smaltimento. Il riciclo, usando le tabelle di convenzione standard, si traduce in un risparmio di emissioni in atmosfera di circa una tollellata e 300 kg di anidride carbonica. Fondamentale è stato l'impegno dell'area marina protetta per il trasporto dalla zona di Cala Maestra di una meda risalente al 2013 e dei resti di due boe arenate dal 2004, queste ultime del peso di circa 650 kg, un'operazione spettacolare che si è svolta tramite l'ausilio di un elicottero che ha sollevato in piena sicurezza sia le boe che la meda, pilone lungo 10 metri e pesante oltre una tonnellata per trasportarle con due differenti viaggi fino a Mari Ermi, in attesa dello smaltimento definitivo che sarà realizzato prossimamente. Durante la giornata, la cooperativa Nelsinis, guidata da Antonio Ricciu, si è occupata dell'aspetto di educazione e sensibilizzazione e insieme ai giovani della consulta, è stato realizzato un manifesto simbolico sul quale Maldiventre ha preso forma mediante l'uso della plastica raccolta sulla spiaggia. Un riciclo creativo di grande effetto ottico. A fine giornata, sono stati estratti a sorte 20 partecipanti che hanno ricevuto in omaggio la borraccia termica dell'area marina protetta. La giornata all'isola conclude il calendario delle giornate ecologiche 2021, ideato dall'area marina, per la salvaguardia dell'ambiente marino e dei litorali, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. L'ampia partecipazione da parte dei volontari fa emergere la consapevolezza del dovere civico dell'uomo nei confronti della natura. Il nostro scopo è quello di insegnare ai più piccoli una nuova etica ambientale sul rispetto della natura che non sta solo nel ripulire dai rifiuti abbandonati ma nell'inquinare il meno possibile scegliendo materiali riciclabili ed ecosostenibili. Sono 96 nuovi casi accertati oggi in Sardegna. Si registra il decesso di una donna di 86 anni residente nella provincia di Sassari. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano tre nuovi casi. A Oristano Città, invece, sono state registrate nove guarigioni dal Covid-19. Non sono stati accertati nuovi casi di positività. L'Aso di Oristano deve provvedere al conferimento di un incarico provvisorio con decorrenza 22 settembre per un periodo di 12 mesi e comunque fino all'individuazione del medico titolare per l'ambito territoriale 2.1 del distretto di Ghilarzabosa. Le domande di disponibilità dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 10 del 20 settembre all'indirizzo di posta elettronica medconvenzionata.oristanochiocciolapec.atssardegna.it Il presidente della regione, Cristian Solinas, è commissario straordinario per la viabilità della Sardegna. La comunicazione è stata inviata dal ministro delle infrastrutture e della mobilità Enrico Giovannini. È stata così accolta la richiesta di commissariamento per lo sblocco di 10 tra le principali opere stradali dell'isola del valore di oltre un miliardo di euro. È una grande vittoria politica della Sardegna, ha affermato il presidente Solinas. L'isola è protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro. L'assessorato della pubblica istruzione ha approvato le retifiche alla graduatoria definitiva dei beneficiari, degli idonei, non beneficiari e degli esclusi relativa alla concessione di contributi per l'abbattimento dei costi per il fitocasa destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atene ubicati fuori dalla Sardegna nell'anno accademico 2020-2021. Con l'arrivo della stagione autunale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, l'ATS Aseruristano ricorda che a disposizione dei cittadini l'ispettorato micologico, un servizio che offre ai raccoglitori consulenza gratuita sulla commestibilità e qualità delle specie raccolte, così da garantirne un consumo sicuro. Operativo nell'ambito del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL, l'ispettorato micologico non solo effettua il controllo gratuito dei funghi destinati al consumo diretto, ma offre anche consulenza agli operatori di pronto soccorso in caso di eventuali intossicazioni causate dall'ingestione di funghi velenosi, promuove i corsi di formazione e di educazione sanitaria, fornisce le certificazioni di commestibilità per la vendita al dettaglio e per la somministrazione dei funghi spontanei. Grazie a tutti i nostri spettatori,